Allora adesso iniziamo a fare diciamo la casetta delle fish Primo taglio Eccoci qua il secondo taglio Qua possiamo vedere il centro E fare un angolare due entrate del genere Grazie ora con semi cerchio facciamo da tutte le parti eccoci qua 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 come possiamo vedere da una casetta grizza cosa abbiamo ottenuto come sempre una volta dato il colore risalta molto di più il disegno ben nascosto eccoci qua eccoci qua eccoci qua come possiamo vedere qua nonostante che la sgorbia è ben molto ben affilata il legno si rovina perché la qualità di questo pezzettino qua è molto scarsa e si vede che c'è un difetto se noi facciamo questo effetto qua con la sgorbia girandola quando tagliamo riusciamo comunque a ottenere la superficie molto più liscia eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua sono pronti tutti e quattro eccoci qua Ok, ora aspettiamo che si asciuga e passiamo con la carta vetrata, così il nostro disegno risalda. Eccoci qua. Una volta grattate, questo è il risultato. Adesso vado a inserirli all'interno della scatola e vediamo il risultato. Eccoci qua. Le casette intagliate direi che stanno molto bene. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua.